Ciao a tutti, oggi andremo a vedere la funzionalità Compare all'interno di Onshape. Andiamo quindi all'interno del nostro documento e andiamo quindi a selezionare il Compare. Il Compare ci permette di vedere le differenze tra due punti differenti della nostra cronologia. In questo caso abbiamo scelto i due branch e la pagina del Compare si presenta in questo modo. Una parte in cui vediamo le differenze in area grafica e attraverso lo slider passiamo da un modello all'altro potendo vedere quali siano bene le differenze. Abbiamo poi la possibilità di osservare le differenze a livello di feature, quindi quali feature sono state cambiate tra i due modelli. E anche all'interno della stessa feature possiamo vedere quali sono le differenze al loro interno. Grazie a tutti.